Se hai avuto una delusione d'amore... Io ti consolido. E dal mio televisore è uscita una ragazza! Il mio obiettivo sarà fare di te un ragazzo bravo e irresistibile che saprà affascinare Moemi. Le Videogirl devono rappresentare una figura ideale per tutti i tuoi. Le Videogirl non siamo fatte per innamorarci di qualcuno in particolare. E' questo quello che si ottiene lasciandosi dominare quella cosa chiamata amore? Ormai il tuo ritiro è già stato deciso. Io devo vederlo! Ti prego! Non sei più in grado di svolgere il tuo compito di Videogirl. Io proteggerò io a tutti i cossi! Sei di speciale una Videogirl. Videogirl si innamora, viene immediatamente ritirata. Mi sono innamorata di te.